La ripresa sempre bella 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 è posto grazie Tutte queste foto oggi eh, controlla eh Guarda, guarda che gioventù, guarda che gioventù, guarda lì Se non c'è fosse qui, Toto, qua, che bene, Toto, dai un po' uno strillata Allora, qui c'era una mossa Qui la macchina non ci vanno eh Senti a provare le fettuccine? Senti a provare le fettuccine 4.200 abitanti C'è questa espulsione in mezzo Perché c'è questa espulsione? Perché il cartellino romano ha avuto un papa Leone tredicesimo La chiesa ha voluto tenere sempre questo, questo, questo ha innesso alla cosa, al suo territorio E ha creato sempre questo, si è mosso in modo che questa espulsione è rimessa sempre dalla parte Le pecore hanno veramente dosato un'altra decolazione della lana Che a un certo punto mi hanno fatto una montagna di lana e così si chiamava monte Ma funziona l'acqua qua? Sì sì Adesso è la prima volta Ma c'è l'aria? Adesso è la prima volta Ma c'è? Faccio compagnare Ma... Che c'è? Fare la prima volta Grazie. Allora, quello è Montecroci. Quello è Montecroci. Allora qui, questo è il tarasso di Bartoncino di Montenegro. Qui potete vedere i nostri castagneti. Vedete questa parte più bassa? Questi sono tutti i castagneti. Qui abbiamo, per informazioni, il maroneto su tutti i maroneti. La terza domenica ottobre c'è la sagra della castagna. E' una bellissima sagra. Se avete un secondo, venite. Nel Paese diventa tutta una bomboniera. Piccolino. 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 non è mia magari due o tre mesi dopo che la serata due o tre mesi la lasciamo che saranno là sopra olive? i crugnali i crugnali rompe l'orso e non fa male e dopo ci fa il patè ma che è il crugnale? ne abbiamo tanti ce lo siamo fatto a fare da sopra allora è presto allora comincia a sbagliare vabbè un po' scendiamo bravo aspetta aspetta arrivato? ciao ah ah Sto scrivendo le mie memorie, perché con l'associazione Ferrari scriviamo tante belle storie, e io non le scriverò mai in mano, perché davanti a me c'è il grande Adriano. Tra mattino Simone ha detto che la fotografia è stupenda, se la manda domani ha detto, Simone c'è una fotografia che ti ha fatto, allo Zon Barini. E questa è la moglie, ripeto, ecco.